ancora una protuberanza molto grande che vediamo qui sulla destra ci fa capire che il sole è davvero in una fase di grande attività anche se da una settimana circa ha fatto soltanto due flare di classe m però ha fatto anche delle eruzioni di filamenti che sarebbero le protuberanze viste questa striscia nera che vediamo in diagonale sulla destra e quindi potremmo vedere anche quella che protrude dal lembo solare partire a una velocità molto grande ecco questa è l'attività del sole durante questa settimana due flare di classe m uno stamattina 12 giorni fa e per il resto un'attività media che mantiene sempre nella classe c l'emissione x del sole ma senza particolari brillamenti forse addirittura questa protuberanza a si chiude perché dipende dal contrasto con cui la si osserva e quindi un loop gigantesco loop magnetico sulla superficie del sole ma ben 100 mila chilometri al di sopra